Nel momento in cui tu crei un posizionamento unico, crei un servizio per una nicchia di clienti specifica, la quale sarà disposta a pagare di più, perché si trova nel tuo hotel quello che sta veramente cercando e sarà contornata da altri ospiti che hanno le stesse esigenze e quindi di conseguenza sono persone simili. Se sei specializzato sulle famiglie per bambini, si troverà famiglie con bambini che hanno esigenze simili. Se sei specializzato per il settore business, si troverà clienti business con esigenze simili e quindi saranno tutti più contenti, perché ricorda che l'obiettivo del piano di marketing è creare clienti referral, cioè clienti estremamente contenti che sono disposti a ritornare nel tuo hotel portando amici e parenti. Grazie.